Buongiorno ragazzi, o buonasera, dipende da che ora state guardando il video Allora, proviamo sto gioco qua, che è un preview, un The Final Station Allora, ho 30 minuti, vediamo com'è Ovviamente sarà tutto in inglese, come minimo, infatti Cerchiamo di capirci qualcosa insieme Allora, vediamo se riesco, beh, potevano ammettere che si marcava un po' meglio il menu Come il cavolo La lingua, no, questo sono io, sì Allora Cange user Che cazzo c'è scritto? Ah, la lingua Ok, lasciamo in inglese Ok, start Beh, il menu, così, l'icona da selezionare così che è così impercettibile È una roba brutta, però vabbè Bello pixeloso Molte recensioni, ho sentito dire che è un capolavoro, ma... Allora, da di qua Posso uscire, fare qualcosa Allora, per adesso Non posso fare niente, vabbè Allora, apriamo anche sta porta Class Class Coin Ho preso dei soldi Qualcosa Che mi serviranno più avanti, penso Andiamo Andiamo Apriamo la porta qua Facciamo qual'azione? No Sì Food Preso il cibo C'è un menu Vediamo Sto premendo i tasti Ma non Non posso saltare Per adesso Non posso fare niente Vabbè La porta Boh, dovrò andare qua Andiamo avanti Non peccato che questi zucchini qua Non li traducono in italiano Perché Sarebbe bello Hello Ciao You are a early Not Ok Andiamo avanti Qua c'è sto qua che dorme Whisky Sigarette Buono Questo qua dorme Non lo disturbiamo Proviamo di nuovo Niente Immondizia Con le mosche Questa è una mappa No, non è una mappa È un avviso Eh, oh, oh, hello Sta fumando Il boss Non c'è il boss Praticamente Vabbè Andiamo un attimo giù Vediamo Qua Qua La docce Qua Altri soldi Il mio armadietto Vediamo Bene Mi sono messo la diviso da lavoro Oh, è una bella bionda I don't pick I don't pick Vabbè Andiamo avanti Computer Ok Questo sarà tipo il centro di comando Qua tutti che fumano Nessuno che lavora Hello Scomparso Mi è scomparso davanti agli occhi Ok, allora Prendiamo il treno Ops Chi cazzo la sarà password? Scusatemi Avete letto password per caso voi? No, eh Allora, forse Ah 6233 Ah, c'è scritto sotto Non l'avevo neanche visto Allora 6233 Ok Ok, partiamo L'audio è minimalista Al massimo Però vabbè Non uso un po' così Non penso che possiamo pretendere chissà cosa Ah, medikit 2 di 10 Ok Questo cos'è? Ok Controllo del treno Adesso Food Sibo Ah, questo è tipo una dispensa Ok Qua c'è qualcosa che non va Non riesco a fermarlo Sto roba qua Ho tirato È andata via la luce Aspetta E anche qua c'è qualcosa di rotto No È lui Non c'entra niente Offline 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 Ok Ah, il tratto Il tratto che sta facendo La tratta Qua c'ho anche delle pallottole Magari mi serviranno più avanti Qua 48 volt 35 20 Ok Quando arrivo devo fermarmi Non ci sto capendo un cazzo Questo gioco qua comunque Ve lo dico Tutto in inglese Anche se è semplice Ma tutto in inglese Così È proprio in inglese Ok Allora Dove are late Bello Ok Intanto non capisco un cazzo Eh sì sì Allora Qua in teoria dovrei trovare Ah è chiuso qua Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Lì Oh no Vabbè Glasses Boh Non so cosa Non lo so Qua sotto c'è una botola Ma non si può aprire Questo è un bavetto Dove non posso entrare Come ripeto Come ripeto Per chi sa in inglese Un giochino così Deve essere divertente Per me O proprio per niente Però vabbè Però vabbè Ho 30 minuti Sfruttiamo Yes Comunque devo trovare il codice Per far ripartire il treno Ok Ok L'està è chiusa E qua la scala è rotta Non posso andare su Vabbè Andiamo avanti Noi Qua posso aprire E cosa c'è qua Di interessante Ah un parcheggio Sotterraneo Ho fottuto qualcosa Va bene Mi ha detto qualcosa Ah è da di qua La botola è da di prima Ok Bene Andiamo avanti E qua cosa c'è Ok Ho preso delle chiavi Non so per cosa Penso che Ah C'era una porta chiusa Qua se non mi sbaglio Qua sopra c'era una porta chiusa Forse con ste chiavi qua No Niente Ok Ok Friend Help me Ok Ok Va bene Allora Qua ho girato Il codice mi sembra Di non averlo trovato Questo qua sta dormendo Forse in teoria Però Posso Come si dice Partire con il treno Forse Proviamo Eh no Che cazzo di codice era Prima No Era 6 No No Restart level Aspetta Qua Eccolo qua 2865 Con la chiave di prima Abbiamo aperto Il Armaglietto 2865 Ok E fin qua Ci siamo arrivati Praticamente A ogni fermata Devo trovare il codice Penso che dovrò esplorare Domandare Chiedere Bla 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 E bla 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 Adesso c'è sto pannello qua Rotto Intanto io lo lascio così Problem Yes Ok 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 Qua è tutto a posto Il treno è ok Qua c'è un online Peter Wick Ok No è morto Che è successo Muore Ah io ho fottuto i soldi No vedi ho dovuto regolare La potenza Adesso qua Cosa cacchio Peter Why Welcome back Thank you No planet Road Peter Ok Sono arrivato Bene Adesso sicuramente Qua c'è il pannello Devo trovare fuori il codice Rags Che non so cos'è Stranamente non c'è nessuno Insomma Ok Ah no c'è questo Hello The code Oh yeah The code Sì il codice Manual Sire You Print Devo stampare il codice Cigarette E tutto il resto Ok Allora Ok Allora Adesso Il mio scopo È trovare il codice Cos'è? Money Bar Vai Vediamo Scegli Abbiamo preso qualcosa Qua Vediamo su qua Vediamo se trovo Il codice Ma guarda Ha detto che devo Forse devo stamparlo Se non mi sbaglio Ok Ok, fuoco, vabbè come gioco è carino, cioè io sinceramente ci spenderei qualche euro per comprarlo se capissi bene l'inglese, ma purtroppo non lo capisco e niente, è fuffa. Cos'è una cella questa? Tipo una cella? Sì, qua hanno arrestato sti tizi, non so mica un criminale. Ok, va bene, allora ho fatto il giro per non so cosa, ho scoperto che lì sotto stanno arrestando della gente, ci sono i militari. Ok, continuiamo ad andare avanti. Qua c'è un vecchio con i piccioni, ecco, vedi, allora... Bene, allora, praticamente qua è tutta la zona che ho visitato, il codice non l'ho trovato. Adesso proviamo a tornare indietro e vediamo che succede. Ah, vedi, me l'ha stampato, 7982. Ok, codice giusto, bene, adesso ho fatto questo, faccio l'ultimo viaggio, poi stacco il video, perché il gioco avete capito com'è. Penso che più andrà avanti, più sarà complicato, oppure bisognerà anche sparare, da come ho capito. In caso voi ci avete giocato, avete qualche video, avete qualche link, qualcosa, fatemelo sapere nei commenti. New food, no, aspetta un attimo, vuole da mangiare questo. Ok, thanks, ok, vedi, bisogna anche... Vieni, guarda, non mi dice più niente. Questo qua è bello in forma, non c'è problema, anche questo. Qua è tutto regolato giusto. Aspettate, qua l'ho messo la pari. Qua è tutto ok. Ok, bene, qua è tutto a posto. Bisogna anche soddisfare le richieste dei passeggeri. Bene, in teoria dovrei essere arrivato tra un po'. Ah, medicchetevi, questo qua serve per... Per guarire... Cosa c'è? Sta succedendo qualcosa... Eh, io a nord... 50-50. Sta succedendo qualcosa... Sta venendo un temporale, sì. Survive... Survive... Sì, va bene, uno viene in treno e deve morire. Atto completo. Ok, qua è il solito codice che bisogna cercare. Proviamo, facciamo sto ultimo pezzo qua. No. Grazie dell'aiuto. No. Grazie dell'aiuto. Non muovere. Non mi fermi. Non mi fermi. Ok. Andiamo avanti. Poverino. Poverino, sto qua. Water. Non so mica... Acqua. Pillole. Questo è chiuso, quindi mi servirà una chiave. Andiamo a vedere... Abbastanza bigua come città. No, è una guerra questa che c'è sottofondo, non è un temporale. No, è un temporale. No, è un temporale. No, è un temporale. No, è un temporale. Ma anche io vogliono usare il treno per qualcos'altro, no? Per trasporti civili. Da come mi sembra di aver capito. ph 1 che cazzo ma devo devo soccorrere i sopravvissuti una roba di genere musichetta di sottofondo bastarda inquietante cos'è cos'è sta roba oddio è il codice alla fine andiamo se sono riuscito a recuperare a ver se lo recupero no ah eccolo lì il codice 4829 saltato fuori jet on the train qua la storia si inizia a fare interessante ragazzi infatti hanno messo anche un carico allora guardiamo questo faccio allora facciamo anche questo pezzo qua e dopo stacco comunque è apparso una sottospecie di mostro nero ok livello questo va bene così cosa è successo? che è che li ha uccisi? erano qua prima lì deve essere lì 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 posso lasciare 25 volte no proprio un po' 6 volte sono morti due militari così spazzati via da non so cosa ah adesso c'ho anche la vita sotto c'ho il menù c'ho tutto c'ho come si usa il menù sotto non si sa oddio il macello qua è successo no senza pallotto eh no senza pallotto eh ok ho salvato questa oddio 5 4 8 7 oddio 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 no sono morto vabbè alla fine ho trovato il codice 5 4 8 7 eh ma devo tornare giù a riprenderlo bene iniziano a venire fuori anche i mostri adesso a posto sigarette non so cosa ci faccio 9 5 4 8 eh si è cambiato a mo 9 5 4 8 a mo a mo 9 5 4 8 ok ho salvato anche questo ok ho salvato anche questo praticamente è tipo un'epidemia è successa bene ok allora andiamo eh adesso più o meno avete capito com'è il gioco molto interessante a dir la verità eh penso che più avanti andrà ci sarà anche divertente va bene qua c'è sempre la mia cassa questi sono sono i sopravvissuti bene abbiamo capito beh avete visto una grande linea com'è questo questo zocchino spero vi sia piaciuto il video registrate o lasciate un commento e ci vediamo al prossimo ci sentiamo semmai alla prossima ciao ciao